Le 10 farmacie comunali di Aspes, 9 su Pesaro e 1 su Gabicce Mare, aderiscono al trimestre anti-inflazione rispondendo ad un'intesa sottoscritta dal Ministero del Made in Italy e da oltre 30 associazioni nazionali. 10 farmacie in cui dal 1 ottobre al 31 dicembre sarà applicato uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmaciecomunali.it. Una iniziativa presentata oggi alla farmacia Andrea Costa dal presidente Aspes Luca Pieri e da Rossana Biagioni, assessore di Gabicce Mare con delega alla sanità. È uno sconto veramente importante se tenete conto del fatto che il patto anti-inflazione va a sconti medi dal 3 al 10% massimi rispetto a quelle che sono le categorie merceologiche che hanno aderito e noi facciamo queste cose in più. Aggiunta a questo facciamo uno sconto del 25% su tre servizi che sono fondamentali e importanti uno sull'elettrocardiogramma, il secondo sull'olterpressorio e il terzo sull'oltercardiaco. Sono tre servizi importanti che facciamo in tutte le nostre farmacie dove è possibile proprio attraverso la telemedicina avere questo tipo di prodotto e di servizio e anche qui lo sconto è non di poco. Se considerate che l'elettrocardiogramma normalmente costa 30 euro da noi lo trovate a 22,50 euro in questo trimestre, così come l'olterpressorio da 50 a 37,50 euro e l'oltercardiaco da 80 a 60 euro. Credo che questa iniziativa vada in aiuto e in risposta alle richieste dei cittadini e soprattutto sia un segnale importante per far capire che le amministrazioni sono vicine anche a tutte le problematiche che riguardano la sanità. Più volte abbiamo parlato di difficoltà anche nella nostra provincia, nella nostra regione perché i cittadini fanno difficoltà ad accedere ai servizi. Anche le farmacie in questo caso sono venute in aiuto creando dei centri medici dove è possibile dare risposte immediate a tutte le richieste che vanno oltre alle lunghe file di attesa che purtroppo ci sono per fare le normali cure, le normali richieste da parte di tutta la popolazione, specialmente gli ultra 65 anni. Fare gli acquisti anche di medicinali o di prodotti da banco non è sempre facile perché vanno a erodere i bilanci delle famiglie che sono veramente sempre più limitati. Gli sconti nelle farmacie comunali sono rivolte ad un ampio paniere di prodotti Arriveremo entro il 15 d'ottobre a proporne 28 a marchio farmaciecomunali.it Oggi sono 15 già pronti nelle nostre farmacie ma nel giro di qualche giorno riusciremo a proporre queste e la cosa interessante è che vanno sia per i prodotti per la salute, ci sono ad esempio degli sciroppi per gli adulti, per i bambini, per la tosse o alcuni per la cura personale. Considerate questo che l'ultima indagine che è stata fatta da parte del Ministero dice che gli italiani sono pronti a tagliare il 23% delle loro spese personali per le cure per la salute e il 38% per quello che riguarda la cura personale. Quindi avere aderito e noi come farmacie comunali produrre uno sconto così importante del 25% su questi prodotti come vi dicevo prima va proprio incontro a quelle che sono le esigenze delle fasce più deboli della popolazione.